Sono almeno 180 i morti e 400 i dispersi causati dalla tempesta tropicale Washi che ha colpito il sud delle Filippine. 24 ore di pioggia hanno provocato inondazioni a Mindanao, cogliendo di sorpresa la popolazione. In uno dei maggiori porti dell'isola, Cagayan de Oro, sono stati recuperati 95 corpi, fra cui moltissimi bambini. Il tifone, indebolito, si sta muovendo verso ovest a 30 km all'ora. Per domenica è atteso nel Mar Cinese Meridionale. Ogni anno le Filippine vengono devastate da almeno una ventina di tempeste tropicali. Nel 2009 Kezzana aveva messo in ginocchio Manila, facendo 464 vittime.